Musica Sono stati i medici del reparto oncologico dell'ospedale di Prato a tenere un corso speciale di 40 ore organizzato da Confartigianato a beneficio delle estetiste e delle parrucchiere iscritte all'associazione e delle loro dipendenti. Un'occasione preziosa ed altre ne seguiranno da parte delle professioniste del comparto bellezza per avere strumenti utili nel rapportarsi alle clienti che stanno attraversando un periodo difficile come quello della malattia tumorale. Nelle lezioni i medici hanno fornito alcune informazioni di base sulle conseguenze fisiche e psicologiche della patologia, riconoscendo l'importanza per le pazienti di continuare a prendersi cura del proprio corpo e della propria bellezza. Devo dire che è stato un corso bellissimo, del poco bellissimo, grazie a Confartigianato soprattutto grazie ai medici del reparto oncologico che ci hanno preso a cuore, hanno riconosciuto in noi delle vere alleate per quanto riguarda il percorso di guarigione del paziente che in un periodo della vita purtroppo viene a contatto di questa malattia. Praticamente eravamo negli anni, credevamo che la figura dell'estetista in questo periodo non fosse una cosa da fare, anzi fosse una cosa da tenere lontano, invece tramite loro che ci hanno dato delle nozioni non indifferenti, delle pillole, dei consigli, ci siamo resi conto che nel nostro lavoro nel perseguire la cura dell'estetica, la cura della bellezza della persona è fondamentale e tramite i loro consigli, tramite le loro lezioni siamo venuti a conoscenza di tante cose che prima non sapevamo e questo va sicuramente ad allargare la nostra professionalità, la cosa che ci distingue è che tutti i giorni siamo messi a confronto nei nostri centri estetici se nonché nei nostri parrucchieri. Lei prima ha detto che una paziente oncologica spesso subisce una doppia privazione, quella della salute, quella anche della bellezza, della femminilità. Certo, soprattutto la prima cosa purtroppo è la diagnosi del male e poi anche la perdita della femminilità perché una donna che tiene molto al suo aspetto fisico, alla cura della persona si vede ad un certo punto privare di queste cose e invece col tempo e tramite questi dottori che ci hanno aiutato, con tanta stima nei nostri confronti, siamo venuti a conoscenza del fatto che possiamo fare tanto per aiutare psicologicamente e personalmente queste persone. Anche l'approccio psicologico è stato molto molto importante. E poi ci sono anche alcuni trattamenti che possono avere un positivo influsso anche sulla salute generale di queste pazienti. Certo, certo, sicuramente il fatto del massaggio che apporta tranquillità, che apporta benessere, che il cliente si rilassa, come appunto andare a legarsi dal parrucchiere e scegliere insieme al parrucchiere magari la parrucca da indossare oppure semplicemente tagliarsi i capelli prima che vengano via definitivamente. È un approccio importante che aiuta molto la donna in questo periodo particolare della sua vita e noi abbiamo avuto questa fortuna immensa, torno a dire immensa, perché avere la possibilità di fare questo corso che è stato l'inizio, diciamo è stato l'inizio, proseguiremo nel tempo, è stata veramente una fortuna che ci ha cresciuti personalmente e soprattutto professionalmente. Grazie a tutti.